Secondo giorno della fase 2 che sul fronte contagi nella provincia di Salerno ha visto un lieve aumento rispetto alla mancanza totale di nuovi casi di coronavirus degli scorsi giorni. Tre i contagi nei 695 tamponi analizzati nei laboratori del Ruggi e dell'ospedale di Eboli. Il Vallo di Diano ed il Cilento però non hanno registrato nuove positività come ormai accade da tempo e continuano il percorso di ripresa dall'emergenza. A Sassano lo screening di massa effettuato sulla popolazione ha portato ad ottimi risultati come ha annunciato il sindaco e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, Tommaso Pellegrino. Tutti i 356 tamponi sono risultati negativi, una buona notizia per la ripartenza del comune valdianese. Nel Cilento sono pochi i casi restanti e per i quali si attende la guarigione. Ne restano sette di positivi ad Agropoli, tre a Casalvelino, uno a Vibonati, Sessa Cilento, Laurino e San Mauro La Bruca. Segnali sempre più incoraggianti per il territorio del Parco che dopo un periodo difficile sta realmente cominciando a vedere la luce ma restando sempre cauti.